Adesso facciamo una domanda a Clavio Selmi perché è un esperto di LCA. L'LCA è stato una delle metodologie che più di tutti è stata impiegata, diciamo, anche per stendere questo protocollo di sostenibilità. Parliamo soprattutto del pilastro ambientale. Prego. Sì, grazie Daniele. Buon pomeriggio. Per appunto individuare un po' quello che è uno degli aspetti, insomma, all'ordine del giorno della sostenibilità ambientale, quindi la carbon footprint, l'impronta di carbonio, abbiamo adottato la metodologia più in uso, insomma, quella dell'analisi del ciclo di vita dell'LCA, quindi, che parte è un campione abbastanza rappresentativo di aziende agricole che hanno partecipato al progetto. Quindi sono stati monitorati e raccolti con degli specifici questionari i dati riferiti alla campagna 2020 e si è appunto applicata questa tecnica di LCA che studia gli aspetti ambientali del prodotto attraverso le varie fasi, quindi si suol dire dalla culla alla tomba, anche se nel nostro caso ci siamo affermati, diciamo, al cancello delle aziende agricole. In ogni caso la metodica è riconosciuta ormai universalmente, è utile perché permette di non spostare, diciamo, le criticità ambientali da una fase all'altra del ciclo produttivo, ovvero sia si potrebbe correre facilmente il rischio di, focalizzandoci su una sola fase del ciclo produttivo, di guardare soltanto quelli che sono gli impatti relativi, nel nostro caso, alla fase di produzione agricola, mentre invece è importante non perdere di vista quello che succede a monte, quindi la fase tutta di produzione industriale, dei mezzi tecnici, piuttosto che dell'estrazione delle materie prime, delle fonti energetiche e quant'altro, e anche di quello che succede a valle, quindi con questo approccio si cerca di spostare l'attenzione sul prodotto, diciamo, non più su una fase, diciamo, soltanto del ciclo produttivo, infatti il ciclo di vita considera tutti i processi, a partire dall'estrazione delle materie prime, la produzione, i trasporti, l'uso, il mantenimento del prodotto, fino allo smaltimento dei rifiuti, quindi quello che potrebbe essere, ad esempio, il packaging di un prodotto ortofrutticolo. Attraverso poi questa valutazione degli impatti, attraverso questa LCA, poi è possibile determinare anche tutta un'altra serie di indicatori ambientali, noi ci siamo focalizzati nel protocollo, si parla esplicitamente di carbon footprint, ma in realtà la tecnica permette di ricavare anche tutta un'altra serie di indicatori di impatto che vanno dall'esaurimento delle risorse ambientali all'ozono, la tossicità verso l'uomo, l'ossidazione della fotochimica, l'acidificazione delle acque, l'interfizzazione delle acque, eccetera. Nel protocollo è orientato, diciamo, la carbon footprint, ma comunque diciamo che è un sistema di valutazione oggettivo degli impatti molto più completo, diciamo, dell'impatto che abbiamo sui cambiamenti climatici. A cosa serve questa LCA? Oltre che di per sé fornisce tutta una serie di numeri che potrebbero essere poco indicativi se non si ha un metro di paragone, diciamo, sostanzialmente. In questo caso, come diceva Sigliuzzo, hanno permesso anche di fare una fotografia, diciamo, del sistema attuale di partenza e quindi, siccome il protocollo prevede comunque un percorso di miglioramento, quindi permette anche di supportare, diciamo, un miglioramento delle performance ambientali di un prodotto. Quindi questo è uno degli scopi per il quale si usa, oltre che naturalmente permette di identificare quello che è lo stadio del ciclo di vita del prodotto che ha un maggior impatto, perché naturalmente queste analisi vengono svolte generalmente suddividendo, diciamo, gli impatti in diverse categorie, quindi della fattispecie ottenuto, suddivise gli impatti delle operazioni culturali, dei fertilizzanti, degli agrofarmaci, dell'uso dei fertilizzanti in campo e quant'altro, quindi in modo da permettere anche di avere una un'identificazione di quelli che sono i cicli, le fasi maggiormente impattanti e sulle quali magari i forzi per andare a ridurre, insomma, gli impatti in fase di produzione. Poi può essere utilizzato per confrontare gli impatti ambientali di prodotti che hanno la stessa funzione, confrontare diversi prodotti, diversi processi produttivi dello stesso prodotto, quindi la mia frutta la posso produrre con processi produttivi leggermente diversi, ma che comunque possono essere migliorati e sopportare quindi un miglioramento, diciamo, delle proprie performance ambientali. Grazie a tutti.